Sono levati delle voci, francamente, che non possiamo accettare che siano ributtati e amare questi, ma sono cose che sono indegne di noi, sono indegne di noi e noi dobbiamo reagire a questo, dobbiamo reagire a questo e vorrei che tutti gli italiani avessero avuto l'incontro che adesso ho avuto io con questa gente che ha perso tre figli, che ha perso la moglie, che sperava di venire qui a trovare un paese libero, democratico, in cui poter lavorare, in cui potersi affermare. Ecco, queste sono cose che noi non possiamo permettere che succedano più nel nostro paese. Vi chiedo scusa.